Niente cancello, nessuna blindatura alle finestre. Sono dei vecchi innocui. Tra poco vanno a nanna, alle nove, puntuali come orologi. Ci possiamo fidare? Un laboratorio qui nel nulla non mi convince. Leia! Che volete? Ma proprio cosa succede? Siete sicuri? Di cosa? Siete sicuri di voler entrare? Ascolta qui. Ma che cazzo dici? Sempre di stante carchie. Et voilà! Buonasera, Gian. Buonasera, Antonio. Ci hanno segnalato una banda di rapinatori. Ma c'è qualche problema? Siete stati voi a voler entrare? Ci sono delle scale che scendono. Vai, che ce ne andiamo a questo posto di merda. Anche voi potrete guardarvi dentro, nel profondo dell'animo. Ma non volete sapere chi siete veramente? No! 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 Grazie a tutti.